carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno oggi la chiesa celebra la memoria di santa monica la mamma di sant'agostino meditiamo il vangelo di matteo capitolo 25 versetti 1 a 13 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli questa parabola il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo cinque di esse erano stolte e cinque sagge le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio le sagge invece insieme alle loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi poiché lo sposo tardava si assupirono tutte e si addormentarono a mezzanotte si alzò un grido ecco lo sposo andate l'incontro allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade le stolte dissero alle sagge dateci un po del vostro olio perché le nostre lampade si spengono le sagge risposero no perché non venga a mancare per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevele ora mentre quelle andavano a comprare l'olio arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire signore signore aprici ma egli rispose in verità io vi dico non vi conosco vegliate dunque perché non sapete né il giorno nell'ora parola del signore carissimi abbiamo già commentato questo questo brano questa parabola delle vergini il reno di dio non si assomiglia alle vergini ma piuttosto alla festa alle nozze e qui oggi vorrei dire vorrei mettere l'accento sull'incontro allo sposo andiamo incontro allo sposo andiamo a incontrare il signore tanti di noi hanno questo desiderio manifestano proprio il desiderio di incontrare il signore vogliono vedere il signore vogliono incontrare il signore una bella e buona cosa ma dove incontriamo il signore e come pensiamo incontrarlo gesù cristo si manifesta nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle chi pensa incontrare il cristo dovrebbe vedere nell'altro l'immagine di dio perché tutti siamo stati creati all'immagine e somiglianza di dio e ciascuno di noi c'è questa impronta del signore e lì noi vediamo dio incontrare gesù cristo vuol dire andare verso gli altri creare una relazione d'amore verso gli altri ciò che pensiamo offrire a cristo l'offriamo a loro come ha detto la prima lettura di oggi che uno tratta l'altro con rispetto con rispetto perché l'altro è immagine e somiglianza di dio è lì che incontriamo il cristo questo è il primo punto il secondo punto dove pensiamo incontrare cristo nell'eucaristia la messa ogni volta che andiamo a messa dovremmo e dovevamo avere la consapevolezza che qui andiamo incontro al signore ciò significa che la preparazione deve essere curata dall'interno all'esterno dai vestiti fino a la confessione dei peccati perché tanti di noi vanno a messa come se andassero al supermercato oppure a fare lo sport basta di guardare il modo in cui si vestano è una cosa vergognosa ma nessuno di noi può andare a una festa con i vestiti non decenti no cerchiamo sempre di prendere un vestito più bello perché quando andiamo incontro al signore all'eucaristia la messa non ci vestiamo degnamente non giudico soltanto una constatazione l'invito sarebbe di prepararci degnamente perché andiamo incontro al signore perché questo signore è lui che è venuto a darci la vita carissimi invochiamo lo spirito santo per aprirci gli occhi fisici anche gli occhi spirituali così ogni volta che incontriamo il nostro fratello la nostra sorella noi incontriamo cristo e ogni volta che andiamo a messa prepariamoci deniamente perché andiamo a festa all'incontro con il signore vi auguro una buona e santa giornata che dio vi benedica sempre